Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay Il gioco in questione è Gateway E' un gioco punta di click in flash Di cui farò una serie Cioè, un po' di giochi in flash E' l'unico gioco che ho provato a trovare anche in italiano Bene, cominciamo Vuoi giocare il tutorial? Si Non so se vuoi Questo gioco è controllato completamente attraverso la mock Click over Per muoverti clicca semplicemente su dove ti vuoi muovere Le piccole impronte dimostreranno dove puoi andare Ok Gli oggetti con cui puoi interagire solveranno quando ci passerai con un'unico di console sopra Prova ad usare il pulsante Ad usare il pulsante sul muro, ad esempio Ah, questo E' un fatto che ci illumina Che noti E poi vado di qua Ok, prendi le scale Alcuni oggetti che possono essere raccolti come questo set di scale Per prenderli Per prenderli Per prenderli Click ci sono Gli oggetti raccolti vengono aggiunti al tuo inventario Per prenderli E' un po' di seminari Gli oggetti cliccandoci sopra E' un set di scale trasportabile Per usare gli oggetti nel commentario e trascinare i copioli semplicemente Su, ci, su, 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 ci, su, cui vuoi usare Gli oggetti nel tuo inventario possono essere combinati tra loro Per combinare gli oggetti che sono semplicemente Per combinare gli oggetti che sono semplicemente Sono dei due e tre scelmi sul contro Sami, sono dei Juni E poi, sp lei Prende ci sono Anche Non trolib Col lazy Composti Prendersi Bon Perché Scute Sì che Ok, qui lo primo, vero, di farlo, di scendere, sii, ok, prendi lo specchietto, a teco, vero, o del toftiri vino, quinto toftiri, non sei ora funzionare, come devo fare, proviamo a fare cosi, e, un po' giocare, non so, darò una tua niente, magari a la brucia ha scritto qualcosa, già dice qualcosa, diccado, come vedo, easy now, come vedo, uiii, ok, teco, la vuica è dove per me sta zero, cambiele gianghii visi daК Consolidante! non è che il cavo va collegato non è che il cavo bene 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 ho capito ok allora questa luce non è che il non è che il funzionale non è che il trattore C'è qui... Oh... ...c'è da favore... ...c'è da... ...c'è da... ...c'è da... ...c'è da... ...ahhhh... ...il vapore ma che effetto... ...no no effetto... ...no no effetto... ...no no no effetto... ...c'è da... ...prendi a vita un effetto... ...e sto anche... Ehm, che cavolo è, è una cosa di farto, non è coloquio, è no, è, io mi prendo un po' cura per ora, è un po' cura. Cavolo di wandania, è certo, padre, ora che è trovato, è un spettino, un spettino. C'è paura di cosa ci potrebbe essere dietro. Allora, che cavolo ci potrebbe essere? Allora, che c'è il tuo spettino? Allora, che c'è il tuo spettino? Allora, che c'è il tuo spettino? no 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 vera non non capito ok tico vede ho viso vi no 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 laura Paura? Può sentirmi, può sentirmi mamma mia Mi sono fatta male Non so cosa dire quello che stai dicendo Il dottor ha detto che dovrei Quindi Cosa stai guardando? Vuoi che cambi canale? Vuoi dire guardare? È un po' da Se non potete dirti addio Laura L'autobus parte tra un'ora Io non so quando torner Se tu stessi meglio potremmo Vuoi dire quando starai meglio potremmo Non posso sopportare devo dirti Perché ti stai facendo questo Non hai avuto niente Non è obbligato a fallire no? Non posso credere che tu Le permette ancora di fargli questo Qui Io Mi dispiace Che ca... Che carola è una roba Il bagno di prima Che credo Boh Simile comunque Madre Sono in bagno Un tempo non ti sarebbe importato niente Per me qui Non sono più una bambina No Stai crescendo così velocemente Diventando una giovane donna ormai Madre Presto comincerai ad attirare l'attenzione di giovani uomini Sì Considero ora di trasferire la tua innocenza Sì Bellina Madre Per favore Ma non glielo lasciarlo fare Non lasciarmi crescere Non essere ingrata più mamma mia Lo faccio per il tuo bene Orca loggio Non ci sono seguita E fatto E fatto C che era meglio per i primi Sì Non ho sentito Sì madre Scusa Bene Questo è quanto Non dimenticare delle parti Alla Per parta unaatility C'è Vi injecta Tutto Tutto Questa 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 Guesta Capito la voce. 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 oh my god non me ricordo come si fa vabbè ragazzi il tuo video lo scopo qua spero tanto che vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo